Dopo ogni blitz vengono sequestrati anche sacchetti di monete, frutto dell'incasso degli spacciatori del boschetto di Rogoredo. È quanto emerge dai verbali d'arresto delle forze dell'ordine che testimoniano il fatto che il mercato, soprattutto dalle piccole dosi, sia sempre attivo e si possa pagare anche con le monetine. Questo alza anche il velo sulla disperazione dei ragazzi che prima chiedono aiuto ai passanti nelle stazioni, ai semafori, davanti ai supermercati e poi corrono a comprarsi eroina a basso costo, proprio con le monetine appena ricevute, che poi, a differenza delle banconote, finiscono in sacchetti di plastica, sacrificabili come quelli trovati dopo ogni blitz dalle forze dell'ordine. E il numero dei tossicodipendenti che ogni giorno comprano stupefacenti a Rogoredo è impressionante, oltre mille. E ogni giorno i poliziotti controllano ma ogni compratore si trasforma in sentinella, pronta ad avvertire gli spacciatori all'arrivo della polizia. La notizia infatti viene pagata con una dose gratis. Ma è difficile raggiungere le zone degli scambi perché in mezzo ci sono i binari della ferrovia, anche quelli dell'alta velocità, e attraversarli diventa rischioso. Ecco perché basta un'occhiata di una sentinella anche a 500 metri di distanza per lanciare l'allarme ed ecco perché, nonostante l'enorme pressione delle forze dell'ordine, Rogoredo continui ad essere un luogo di spaccio.